questa ricevuta amministrativa per 11 misure di orzo come offerta alimentare per la dea gula venne stilata 2000 anni prima di cristo tra le province di unma e lagash nell'antica mesopotamia proprio qui nelle terre fra il tigri e le ufrate la nostra civiltà affonda le radici sulle rive di quei fiumi l'uomo coltivò i primi campi costruì le città avviò scambi e commerci la forza dei fiumi venne arginata vennero costruite dighe e canali qui l'uomo inventò la scrittura ma come nasce come si afferma l'uso della lingua scritta sul finire del quarto millennio avanti cristo sorsero nel vicino oriente potenti città stato rette da due centri di potere il palazzo e il tè a causa del rapido sviluppo economico i magazzini dei palazzi e dei templi presero ad accumulare merci in eccedenza nacque l'esigenza di amministrare il surplus di questi beni berrate alimentari vestiame metalli le più antiche testimonianze scritte infatti non hanno niente a che fare con componimenti letterari ma sono riferite all'amministrazione dei beni grazie a tutti Grazie a tutti.